Siamo davanti all'istituto Benetto Croce, la materna, per parlare di un problema che sta a cuore a centinaia di mamme, quello che riguarda i buoni pasto per i figli che attualmente il Comune ha sospeso, per motivi tecnici vi hanno detto. Lina? Sì, mi è stato riferito così dal responsabile del servizio quando a marzo la menza è stata sospesa. Teniamo a precisare che l'azione è un'azione personale delle mamme, non è un'azione politica, non è un'azione assolutamente. Noi stiamo rilevando un fatto che da metà marzo la menza ai bambini non è stata più garantita. Apprendo dal giornale stamattina con enorme piacere che il commissario conosce le procedure amministrative. Quindi io mi chiedo, queste procedure, quindi richiesta DURC, la certificazione antimafia, visto che la menza scadeva il 16 marzo, perché non sono state attivate prima? Perché non si garantisce un servizio continuativo ai bambini? Perché secondo le varie opportunità noi mamme abbiamo il diritto al lavoro, è il primo articolo della Costituzione. Invece noi mamme siamo ferme perché non possiamo lavorare. Perché essendo che abbiamo scritto i bambini a tempo pieno, invece siamo costretti a prendere la luna perché i bambini non possono mangiare tutti i giorni i panini. E l'ennesimo di servizio, perché quest'inverno i bambini senza riscaldamenti, la spazzatura in prossimità dell'asilo che praticamente vedevamo i topi passare, adesso ci hanno tolto la menza. Quindi i commissari come intendono garantirci il servizio? Ecco, questo è l'interrogativo. E l'appello qual è? L'appello è che noi innanzitutto abbiamo fiducia nel lavoro del commissario. Proprio come ha detto anche l'altra mamma, questa non è né un'azione politica, ma è forse una riflessione. Invitiamo il commissario a riflettere sulle priorità dei propri interventi. Nel senso che il sociale, la scuola, i bambini devono essere tutelati, sono delle fasce che devono essere tutelati. Ed è impensabile che si debba intervenire in secondo piano, in seconda categoria su queste fasce. Perché questo non è un ristorante, non è un pub, è la scuola. E la scuola è prioritaria, è prioritaria per le famiglie, perché le famiglie se non perdono fiducia. Oltretutto io, in modo particolare, sono del comune di Partanno. Ho scritto il mio bambino qui, perché credo in questa scuola. Questa scuola per le finalità e per gli obiettivi educativi che tante maestre realizzano. Quindi vorrei aver garantito questo diritto di mio figlio, ma anche della mia famiglia. E con noi facciamo vedere anche le altre mamme, perché è proprio un gruppetto di mamme che spontaneamente si è riunito per sensibilizzare i commissari, non dico a fare presto, ma quantomeno accelerare, ove possibile, le procedure. Grazie a nome delle mamme, dobbiamo fare qualche ringraziamento, no? Grazie a Castelvetrano News. A Castelvetrano News, intanto, e anche voglio ringraziare la Belice Passi, che comunque con il suo intervento ha garantito una proroga di una settimana sui passi ai nostri bambini. Quindi chiedo al commissario in appello che proroghi il servizio della mensa, almeno fino alla fine della scuola. Grazie a te, grazie a Castelvetrano News. E speriamo che sia fiduciosi. Dobbiamo essere fiduciosi. Grazie a te, grazie a te.